Allora, adesso mi fai per mandare una musica, io mi farò delle due passi e ti chiedo di giocare a fare, abbiamo tre possibilità per fare un'altra persona, per fare un'altra cosa, non si sfida e si bruciano per aver mangiato, spero, non faccio la stella così non guardo. I love you Grazie a tutti.